Nuovi disagi nel sito archeologico di Pompei. Una porzione in pietralavica di una colonna pertinente al portichetto d'ingresso di una casa nei pressi di Porta Marina si è distaccata questa mattina. Già in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area e le verifiche necessarie in conseguenza dell'accaduto, l'accesso al sito dall'ingresso di Porta Marina è stato temporaneamente sospeso. Il distacco di una parte della colonna alta circa 3 metri ha interessato una porzione della base. Del crollo ci si è accorti questa mattina poco prima dell'apertura dell'area archeologica. Ora un'impresa di restauro dovrà procedere a puntelare le colonne del portico d'ingresso in attesa di un'indagine complessiva sulle condizioni delle strutture. Non è il primo crollo nell'area archeologica che lo scorso 24 dicembre aveva ricevuto la visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini in occasione della riapertura di 6 Domus, possibile grazie al finanziamento dell'Europa del grande progetto Pompei.